ciao a tutti aspettiamo aspettiamo niente perché sono già le tre in punto allora mi chiamo mimo peruffo sono il titolare di aquila corde armoniche sono un cordaio professionista ma anche soprattutto un appassionato dell'argomento corde e montature perché per me come fare una ricerca o di ricette storiche da cucina oppure gli abiti femminili maschili nelle varie epoche sapete entusiasmante tentare di scoprire qualcosa di crearlo nel campo delle corde ancora più entusiasmante perché vedete adesso mi sto occupando da poco di nuovo del canone del violino e canone di paganini avendo messa a punto la tecnologia del buda all'intero e io mi domando ma che tipo di suono sentiva nicolò oggi lo possiamo ricostruire e quello che sentiamo visto che lo strumento non è mai stato modificato e quello che sentiva lui molto entusiasmante ricreare qualcosa che fumo o perlomeno arrivarci molto vicino e questo si può fare in base alla ricerca ricerca applicata sul posto nei musei nelle case dei privati qualche collezione privata e nei documenti quelli che scopro io e quelli che scoprono i colleghi o che per caso ti entrano in casa senza averli cercati alle volte capita collezionando tutte queste cose mettendo l'assieme è come un gran puzzle dove tu metti dei pezzettini un po la volta cerchi di ricostruire ciò che fu ecco quindi io mi occupo di queste cose nello specifico ho pensato di cominciare ad affrontare il problema dell'arpa o meglio delle arte perché è l'arpa è lo strumento più antico secondo me ma anche secondo altri più antico del mondo perché alla fine un arco la caccia è un arpa con una corda semplificando e poi è uno strumento che vive di un paradosso da un lato è estremamente complicato non c'è un arpa ci sono una quantità enorme di varietà di arte nella loro foggia numero di corde eccetera eccetera e di fronte a questo paradosso di questa enorme quantità l'argomento corde non è mai trattato sì che gli artisti le artiste soprattutto è un campo in cui si sa pochissimo soprattutto poi si va nella questione delle cosiddette arpe celtiche le altre moderni insomma e cominciamo a delimitare il campo d'applicazione allora a chi voglio a chi può essere utile questa cosa può essere utile per certi versi a chi si occupa anche di arpe moderne montate con materiali plastici perché ci sono i concetti generali che rimangono fermi ad esempio che tutte le corde della montatura premute nel punto dove tu suoni nel punto dove tu metti la mano statisticamente premendole devi sentire la stessa sensazione tattile di duro nelle corde di tensione questo è un concetto diciamo generale e però ho pensato siccome mi sto rivolgendo principalmente alle cosiddette arte storiche per altre storiche a petticello perché andiamo da delle diciamo ricostruzioni di arte del medioevo del 400 basate esclusivamente sull'iconografia o meglio sugli affreschi dove tutto da inventare da capire via via andiamo a finire alle ricostruzioni di presunto arte del cinquecento del seicento dove comincia a comparire qualcosa non so l'arpa barberina è un esempio che tutti hanno sulla bocca no lì comincia a esserci l'iconografia eccetera e via via avanti così pensavo di arrivare a toccare l'argomento tardo settecento primi ottocento voi direte ma non è troppo ampio sì certamente però qualcosina ho deciso di affrontare e questa è diciamo per me una bella sfida complicata perché un periodo molto ampio però ci sono le caratteristiche comuni che dopo vedremo vorrei trattare come tematiche le seguenti uno che tipologie ricorde avevano a disposizione nel tardo medioevo nel rinascimento nel seicento avanti così fino all'inizio dell'ottocento poi i bassi che tipo di bassi avevano a disposizione che dire delle corde rivestite quando è che sono comparse che caratteristiche avevano perché se per esempio trattiamo l'arpa stile impero oggi si usano a corde con fiocco di nylon ricoperto ma la domanda è il suono che si ottiene è come i vecchi bassi come questi questa è una ricostruzione esatta di un reperto del 1797 di un brevetto di un certo baudo rilasciato a parigi avendo il suono come questi bassi o questi bassi di nylon sono differenti e poi vedete mi file corde di questo tipo quando venivano usate sull'arpa e perché venivano usate che caratteristiche acustiche avevano si possano ricostruire oggi cosa possiamo aspettarci da loro infine cosa sappiamo infine andiamo avanti cosa sappiamo dei diametri e ancora passiamo alle corde sintetiche e questo argomento interessa sia chi fa l'antico ma soprattutto chi suona l'arpa attuale per l'attuale intendo tutte le varietà che oggi si trovano dai giocattolini fino all'arpa pedale che materiali di sintesi abbiamo oggi che caratteristiche acustiche hanno quando furono scoperti e perché furono introdotti nel mondo dell'arpa e così anche le tipologie di bassi moderni questo diciamo descrive la storia delle corde applicata l'arpa poi passiamo oltre tratterò la legge delle corde che fu introdotta per la prima volta da vincenzo galilei intorno al 1568 e avanti poi ripresa da mersenne nel 1636 per inciso mersenne il primo che parla dell'arpa e delle sue corde colorate in rosso e in blu 1636 quindi la legge delle corde e poi affronteremo dei problemi molto più importanti della semplice legge delle corde e che risponde una tematica che io ho fatto in un blog perché noi cordai non possiamo calcolarti a distanza la montatura per la tua arpa ecco questo è un problema reale quindi parleremo della questione dell'inarmonicità che il killer del suono e che il problema dei problemi quando si costruisce si progetta si dimensiona uno strumento musicale a pizzico o ad arco poi andiamo avanti come vedete tutto molto semplice come gli antichi hanno risolto il problema delle inarmonicità e infine se avanza tempo tra i suggerimenti pratici per verificare il setup della propria alta per verificare se l'arca che sta prendendo magari vuol fare medioevo ti fai costiere un'arpa oppure qualcuno ti vende un'arpa come verificare che non stai prendendo una fregata nel senso non perché ti vogliono fregare ma perché spesso capita che l'arte progettata con delle proporzioni che non rispettano l'ingegneria della corda dei calcoli precisi che sono esattamente quelli che utilizza un architetto quando decide lo spessore del muro da dare avendo le tonnellate di pressione e il materiale di base il sasso il mattone quello che molte volte questi muri sono troppo sottili e crolla il tetto cioè si spacca la corda e si pensa la colpa del cordaio ma le cose non sono propriamente in questa maniera va bene direi di cominciare c'è molta carne sul fuoco e devo dire che un argomento per me è una vera e propria sfida perché perché di sì perché nuovo e perché l'arca è talmente complesso come è compresa tra l'alfa e l'omega l'alfa e la frequenza più acuta la corda più corta e l'omega i bassi lunghi dove le condizioni operative progettuali sono diverse ma sono state risolte in maniera ingegnosa mediante un sistema di auto compensazione acustica lo stessa cosa che avvene nella spinetta nel clavicemolo che tutto sommato come dice merset non altro che un'arpa messo orizzontale e meccanicizzato il movimento la questione delle vita con dei tasti ok allora se avete domande voi fatele o qui valentina non si riesco che si vede vale a tutti ecco che mi dà una mano perché sennò devo trasformare in un po li portano tassi a destra sinistra e e dopo mi ci prendo e andiamo avanti penso un oretto un'oretta e mezza ma spero un'oretta qualcosa perché se non la dividiamo in due ne facciamo un'altra parte se le cose diventano complesse so già che essendo un argomento nuovo per tutti coloro che sono l'arpa so già che molte cose non le capirete subito è impossibile bisogna spezzettare l'argomento in tanti pezzettini come si fa quando si dà da mangiare il boccone grosso i bambini si spezzettano e ne mangi un pochettino alla volta poi questo video viene messo in youtube per cui potete vado potete tranquillamente ascoltarlo con una buona spegnina di fianco per il vostro mal di testa certo io cercherò di non farmi venire il mal di testa cominciamo ah no c'è da dire una cosa per quanto riguarda il cosiddetto calcolo di una montatura gli devo mettere dei paletti dei limiti io proverò a descrivere un sistema pratico che si può fare a distanza per determinare la montatura della vostra arpa però inserire un argomento così importante dentro questo tutto quello che dovrò dire è un po limitato però io posso accennarlo senza la pretesa che lo capiate e poi a parte pensavo di fare una demo su youtube usando un'arpa tipo questa va bene un'arpa qualunque dove step by step vi faccio vedere qual è il metodo e va sicuro che questo metodo se si segue funziona bene perché non ha bisogno di formule delle corde complicate solamente due numeretti e e due o tre diametri base per fare l'intera montatura ma lo vediamo step by step allora cominciamo la questione avete domande fino adesso tutto chiaro tutto chiaro tutto chiaro vediamo le tipologie di corde allora va detto subito che del 400 non abbiamo nulla delle tipologie di corda adatta all'arpa o meglio abbiamo delle indicazioni sulle corde di metallo che si usavano sia corde di metallo fatina o di calcum per esempio che è una lega argento basso tenore d'oro ovviamente e ottone eccetera anche del ferro lo chiamavano acciaio allora ma non è niente a che fare con l'acciaio che abbiamo adesso e poi avevamo ovviamente il budello abbiamo delle ricette molto semplici che insegnano come farsi le corde in casa ma del medioevo per medioevo intendo il 1400 abbiamo veramente poco del cinquecento lo stesso non abbiamo alcuna informazione se non una sola che nel 1584 alla corte di ferrara ordinano delle dei vinti grossi vinti di corde di bassi per arpa doppia per l'utilizzo di sua sua santità stava del sua maestà alla corte se praticamente per le corde grosse di questo tipo d'arpa ci si rivolgeva a firenze abbiamo anche un altro documento ma del primi anni del seicento che non 1630 dalla spagna fanno è ugualmente un ordinazione di corde esclusivamente basse in fiorenza il che potrebbe far supporre che nell'area toscana fiorentina segnatamente hanno specializzati per produrre una qualità di corde basse quelle più grosse anche più lunghe che erano probabilmente particolarmente efficienti fatto sta che ho fatto fare un'indagine molto lunga dall'università differenze in area toscana sono venuti hanno trovato diversi documenti ma non qualcosa in merito nell'area fiorentina erano anche famose nella fabbricazione delle corde basse negli uto degli uto si chiamavano pistos corde di pistoia ne parlano d'inglesi thomas mace nel 1676 anche luttaio desmoli in francia nel 1600 credo 50 60 parlano di queste corde che erano straordinarie dei migliori difficili da trovare avevano un colore mese scrive deep dark red color che io identifico in un processo di appesantimento del budello per dargli la densità e andare sul grave esattamente come scrive vincenzo galilei e come scrive danielo bartoli dove dicono veramente c'è anche un altro parametro della la densità la guara la quale la gravità anzi chiamano la quale fa il suono più lento cioè le vibrazioni si abbassano allora tipologie di corde quindi via di questa indicazione del 1584 non abbiamo null'altro quindi bancoliamo nel buio molto si è discusso se le corde gravi delle arpe del tardo cinquecento dei primi 50 anni del seicento fossero particolari segnatamente fatte in questo modo una cat line cioè una struttura a gomena la quale molto elastica oppure adesso non ce l'ho appesantita con i sali metallici in modo che non sono le gare ma in realtà sono solo supposizioni fatto sta che non abbiamo nulla del seicento patrizio parvieri il ricercatore ha trovato dei documenti che provengono dai cordai di roma dove si parla di cantini rinforzati prime di violino di liuto che corde d'arpa un termine molto generico per patrizio la parola rinforzato la interpreta come più di torto io invece di una interpretazione diversa rinforzato vuol dire il robustito cemento armato cemento rinforzato vuole che dentro c'è il ferro che lo induisce le robustisce e secondo me questo tipo di corde avevano subito un trattamento di natura chimica difficile chiamare chimico qualcosa del 500 e 600 atto a indurire il budello ad esempio i sali da lume i quali sono menzionati da schipo un viaggiatore inglese che nel 1660 65 se ne va in giro per l'italia si ferma padua padua alla bottega di un cordaio e menziona appunto il sale da lume ok il quale serve esclusivamente a indurire il budello ecco c'è questo tipo di interpretazione per poter avere delle informazioni sulle tipologie di corda o meno o meglio come erano fatte bisogna andare ai metodi francesi di cui il primo e del 1770 è qualcosa dove vengono suggerite le corde di napoli con italiani insomma questa cosa di suggerire le corde fabricati in italia ma segnatamente per italia attenzione l'italia era un'espressione geografica davvero che era fatta da tanti stati con le loro unità di misure loro pc standard che aveva un vero e propria bandiera le loro monete eccetera e dopo guarreggiavano fra di loro avevano loro gabelle eccetera per cui il regno delle due sicili a cui pateneva napoli aveva tutta una sua caratteristica anche una tecnologia che era essenzialmente quella dei cordai abruzzesi che attraverso i tratturi andavano a centinaia qualche migliaio nel periodo estivo a lavorare in area napoletana dopo tornavano delle loro terre a zappar la terra come sta scritte alcuni documenti tra lo settecento e avevano portato come scritto in un documento del 1807 le corde all'ultimo grado di perfezione io pensavo che questa parola forse ma sì se la stantirà nell'ultimo grado di perfezione che invece no è esattamente così perché poi la riscoperta della tecnologia italiana del metodo italiano di fare corde partendo dal budelli intero d'agnello e questa è la caratteristica delle corde fabbricate in italia metà all'estero erano obbligate a tagliare a metà la tubazione dell'agnello perché erano agnelli grossi la caratteristica che avevano messo a punto talmente bene quella tecnologia che poi rimasta invariata di padre in figlio fino praticamente a circa poco prima della prima guerra mondiale la caratteristica di queste cose fatte in budelli intero d'agnello essenzialmente due la prima che si allungavano poco cosa abbastanza importante per la seconda è che suonano molto meglio rispetto a quello tenute da fettuccine indipendentemente che siano di bovino mucca insomma o che siano di ovino ok quando una corda è fatta a partire da strisce suona si bene batte non è così performante come la ferrari delle corde che quello in budello intero e questo spiega perché le corde italiane costavano una cifra poi la tecnologia per carità c'erano un sacco di problemi sulla qualità delle corde perché erano false cioè l'avivazione non era periodica ma era a periodica c'è insomma sghi bescia nel 1500 nella fonte ga il ganassi dice che la corda facendo il test di mersey quello dove tocchi la corda così la corda buona fa due archi quello che vedete adesso due parabole la corda meno buona all'interno si vede un guizzo come il paralitico che cammina quelle cose così no fa questo esempio però e le corde di napoli ora questa è una corda probabilmente fatta napoli ma comunque molto antica poi io sapete ho anche un cantino di paganini che certamente fatta napoli che caratteristiche avevano le corde per cui nei metodi francesi per arpa per basso di viola per violoncelle francesi suggerivano praticamente esclusivamente le corde fatte oa napoli oa roma e jean baptiste for care nel 1768 scrivendo al principe suggerendogli una montatura che doveva essere anche competitiva violoncello perché lì violoncello chiamato in maniera dispregiativa il basso di cremona lo combattevano ma c'è niente da fare una battaglia persa l'abbiamo visto dopo gli italiani stavano dappertutto alla corte francese a fare i buffoni a far teatro a fare musica questo e quello e lui eccetera poi corbetta e avanti così diciamo mi sono perso stavo dicendo sì le corde italiane avevano questa marcia in più e venivano consigliate appunto sull'arpa e c'è una cosa da dire le corde di budello vediamo se riesco a far dire le possono essere al di là della materia prima di partenza budello intero daniello mucca quello che volete fatte in due maniere opposte che si chiamano il gradiente di torsione può essere bassa torsione come questa o alta torsione come questa la corde in alta torsione e così vediamo se sono gli faccio delle immagini è praticamente la fibra l'angolo di fibra girando le più le giri più aumenta la torsione vedi l'angolo di fibra quando va a 60 gradi circa un'altra torsione una corda in bassa torsione invece le ritorci appena appena e l'angolo si va è molto buttato una corda così è molto dura e rigida e le vedete tranquillamente sulle altre a pedale moderne e quali queste corde molto rigide ma anche verniciate la verniciatura è una cosa adottata dopo la seconda guerra mondiale per rendere la corda più di vattura più insensibile ai cambi di umidità e anche diciamo un aspetto plasticoso che le rende come dire tecnologicamente una uguale all'altra industrializzazione queste cose sono molto rigide e quindi sono anche estremamente forti e vanno bene su queste altre pedale moderne perché lavorano oltre i limiti del carico di vattura ma oimè hanno un problema non sono molto sonore fanno solo punti lo si vede per esempio facendo questa prova guardate questo è il fuso di vibrazione adesso prende una corda in alta sto per dire alta definizione altra torsione a parità di diametro guardate guardate quanto dura la vibrazione e poi se questa è la mia tavola armonica qui mi scuote molto quindi una cosa che possiamo dire che questo tipo di corde non queste davano una sonorità oggi penso che sconosciuta soprattutto per coloro che sono l'arpa attuale per attuale non sta a distinguere facenti che col budello lever le levette quello che volete voi no e corde fatte a napoli vi faccio vedere già dei documenti dove vengono succedite le corde fatte a napoli questo è un metodo per arpa nel 1779 e si vede per la prima volta descritto quanto segue spero non fa casino ok ecco avete visto no e quindi vengono suggerite le corde fatte a napoli dopo un altro documento giusto per venire veloce che riguarda questa alpa siamo nel 1860 questo il metodo questo l'arpa e il documento anche qui dice la stessa cosa no qua adesso io non conosco il francese eccolo qua vediamo se ecco qua le corde di napoli sono eccetera eccetera ecco questo discorso delle corde fatte a napoli arriva fino alla fine del 1800 del 1800 praticamente e poi qua interessante che vediamo i prezzari dei cordai napoletani questi sono del 1834 credo e qua vediamo cantina un filo per arpa un filo vuol dire un budello c'è un budello l'intero daniello qui c'è il pezzo poi arpa eccetera eccetera poi andiamo qua bassi a dieci fili per arpa e chiariamo non sono i bassi rivestiti sono le corde più gravi in puro budello perché i bassi li facevano avvolgendo della seta con il filo in falso argento si chiamava allora falso argento il filo di rame argentato adesso si adesso lo dico ecco qua i bassi arrivano a 18 fili per arpa per bassi intendo l'ultima corda che si interfaccia con le rivestite e ho calcolato 18 budelli cioè 18 fili un diametro di circa 1 e 70 1 80 ecco vediamo se vedete i cordai facevano anche corde per battere il cotone la lana e perché i cordai allora facciano corde per altri usi anche per gli orologi e anche qualcuno per le racchette rimandava in francia andiamo a vedere un'altra tabella giuseppe de guida sono dati questi scoperti da patrizio barbieri ok e qua cantina un filo non è specificato cosa ma un filo vuol dire un budello non ho certo per gli uto quindi doveva essere l'arpa corde colorate ecco le colorate sottinteso non solo l'arpa ma alle volte coloravano col tornasole azzurro e con credo adesso il rosso non mi ricordo la cocciniglia e coloravano il budello fresco assortimenti di arpa composti notare eccetera 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 ecco qua ogni sorta di corde filate d'argento soprassetta questi sono i bassi famosi e relativi pezzi dunque corde in bassa torsione e corde in altra torsione allora gli antichi non distinguevano fra corde in bassa torsione e coordinata torsione io girando i musei credo l'ho raccolto diverse migliaia di spezzoni perché vedete la ricerca si fa sì su internet ma si fa sul posto ed è quello che stiamo perdendo ultimamente la ricerca sul posto documenti d'archivio vabbè oggi anche comodo google book e poi far tanto ma voi non sapete cos'è per rimane uno strumento quei frammenti di corde originali vi faccio vedere questa cosa dopo discutiamo delle corde in bassa torsione allora quando voi andate in un museo anzi come quello di roma e vedete che c'è una bella collezione di arpe e vi trovate qualcosa come questa vedete guardate quei bassi di argento che stanno lì aspettare te che prendi le misure e quindi mette un po di luce nel buio e metti un pezzettino al tuo paso e guardate questi tutte queste corde avanzate e in che posizione sono si può misurare un grazie di grande fare delle considerazioni e poi quando andate da vicino a vedere vedete queste cose qua ecco qua queste corde rivelano qualcosa sono di napoli non lo sappiamo però sicuramente guardando la superficie ci si accorge subito che sono in alta torsione anche guardando questi queste cose qua sono in alta torsione e lì ci si fa delle domande poi andiamo nella parte dei bassi e questi sono estremamente interessanti ed eccoli qua i bassi con la seta dove possiamo misurare il diametro esterno il diametro dell'argento fa il sargento possiamo pesare la corda ricavare bu dell'equivalente vedendo in che posizioni sono misurare un grazie di grande fare una speculazione sulla possibile tensione di lavoro ipotizzando un corista standard che voi potete dire sì ma qual era certo c'era una giungla dei coristi però si può fare già qualcosa l'alta torsione alla bassa torsione allora rispondo il concetto di alta e bassa torsione l'entrodotto il fan sega ma un grande ricercatore che è scomparso da poco di cui io mi considero un suo allievo anche se poi sull'argomento delle corde basse abbiamo passato i 15 anni a combatterci pesce temali perché lui è quello che ha inventato sostiene la teoria della cat line cioè che paese dove la mancanza di sonorità dei bassi si fa un intreccio come quello di una fune invece sono entrato con la teoria che è quello della pesanti vento del budello ci siamo combattiti a sondi documenti però sostanzialmente noi dobbiamo molto a questa persona spero con giornalato lì si faccia anche una bella cerimonia perché lui ha gettato le basi per moltissime cose ma lui ha tradotto il concetto di bassa alta torsione in antico non esisteva non solo perché non abbiamo i documenti ma anche perché certe corde non le abbiamo più ad esempio i cantini del liuto ma forse ne abbiamo uno perché prima del covide due anni fa io e la mia compagna siamo andati a in svezia dove ci sta un liuto con i frammenti di corde e che si reputa siano originali non so cadere perché ci stava anche un cantino di diametro 0 a 38 dove mi hanno dato un frammento per farci un'analisi non a radiocarbonio 14 perché non funziona il periodo è troppo vicino a noi ma c'è un'altra tecnica simile a radiocarbonio 14 che fa una migliore datazione a me interessa sapere solo se del 700 del 600 non mi interessa il decennio esatto lì si vedono che son corde durissime e con bassa torsione però è un concetto moderno le corde come queste che vendono gli inglesi e che le conoscete è una tecnologia messa a punto dei tedeschi dei franco tedeschi e già nel tardo ottocento ma è entrata in vigore con una chimica molto complessa noi la sappiamo fare questa tecnologia sì però essendo che dobbiamo far corde storiche abbiamo la mucca dove abbiamo introdotto dei concetti antichi eccetera l'assenza dei sali indurenti e poi il buddell intero daniello e sappiamo fare ma c'è una chimica estremamente complessa con dei sali chimici inusitati dove abbiamo dei carichi di rottura altissimi raggiungono il carico di rottura di una corda di nylon di floro carbonio è un diciamo son corde assolutamente moderne diciamo che corde di questo tipo e sono caratteristiche di dopo il 1950 grosso modo prima le corde che io ho sempre visto nell'arte erano generalmente così alta torsione vi faccio vedere questo se lo trovo caspita ancora guardate per chi non ha capito l'altra torsione alla bassa torsione vedete alta torsione vuol dire che è stata ritorta molto contrariamente a quello che intuitivamente sembra più la corda di torta più e flexible flessibile me ne ha ritorta più e rigida la corda molto di torta più elastica più sonora ma anche un fisio di un fuso di vibrazione più ampio magari pone dei problemi di sbattimento ma lì gioca la tensione la corda questa invece un carico di rottura molto alto però ha una sonorità più povera ecco le corde napoletane che venivano installate certamente fanno in modo che questi strumenti dovevano avere una sonorità molto ricca e quindi qua abbiamo un'altra sorpresa sempre su quell'arpa vedete qui manca una corda ma abbiamo questa se guardate bene vedete che una corda estremamente ritorta tutta un'altra parrocchia da quelle rigidissime che vengono montate oggi qua si vede bene e questo pone intanto una serie di quesiti che adesso non sto ad affrontare poi questo sulle tipologie di corde quindi parlando delle corde di budello abbiamo riassumendo delle indicazioni che nel 1584 sono andati a firenze a prendersi le corde dei grossi vinte di corde per l'arpa doppia di sua maestà e poi che dalla spagna ha ordinato delle corde grosse di budello basse per arpa sempre a firenze abbiamo altro e poi nel 1770 e qualcosa i francesi dicono dove compano le corde quali sono i migliori quelli di napoli come sono fatte quelle di napoli usano e buda all'intero daniello che differenza al buda all'intero daniello sarà molto meglio di con l'altra produzione perché il buda all'intero daniello solo in italia e non in francia e germania perché gli animali utilizzati per fare le corde gli agnellini intanto non si ammazzavano per fare corde ma si mangiava molta carne di ovina quel tempo anche degli animali piccoli c'era una grandissima un grandissimo uso di questo di questa carne diciamo con tre budelli interi messi assieme ottieni il cantino di violino che circa 0 70 da 0 65 a 0 75 con gli agnelli della stessa età dell'estero quante volte l'ha sentito stessa fase ormai non abbastanza e noi immagino che mi sto ripetendo perché sono argomenti vada settore con gli artisti artista e quindi certe cose sono comuni invece all'estero con gli agnelli della stessa età ottenevano diametri molto più grossi 0 90 un millimetro e allora prendevo l'intestino lo tagliavano a metà in due strisce è chiaro che a quel punto di mezzare tutto il range che si otteneva da tre budelli interi daniello comunque non era un diametro preciso perché i tre budelli ho capito io è vero che c'è il capatore cioè il selezionatore degli intestini ma una certa variabilità c'era lo spessore della parete insomma una sostanza naturale come le piante e se guardi i pioppi sono tutti uguali ma tutti diversi anche le persone siamo tutti uguali ma diversi guardate sta curva gaussiana questa è una cosa non teorica ma reale che l'ho fatta qua dopo aver fatto qualche migliaio di cordi in budelli intero daniello e questo quello che accade questa è la percentuale questo è il diametro da 6 0 64 0 70 0 74 e vedete che una curva campana che si chiama gaussiana dove la maggior parte di diametri parte da tribù dell'interi da 68 71 e colima perfettamente coi dati dei cordai napoletani perché tutto in proporzione quindi che indicazione abbiamo quindi dei diametri in uso nessuna o meglio abbiamo due informazioni una viene da metodo francese che adesso mi sfugge il nome va bene dove ed è scritta la cordiera dell'arpa mi sfugge mi verrà in mente questo è un personaggio che ha fatto il metodo per contrabbasso per il mandolino eccetera eccetera si occupata anche data dove le prime quattro corde le ultime quattro corde dell'ottava piatta sono dello stesso diametro cioè due budelli poi tre budelli poi quattro budelli le chiama corde di mandolino queste sono corde di violino il cantino del violino queste sono le seconde del violino questo gruppo qua sono le terze del violino violoncele eccetera dopo comparino i bassi filati su setta praticamente quello che andava bene sugli strumenti ad arco quel tipo di corde le montavano anche sull'arpa con dei salti abbastanza discreti è perché guardate quando si dice queste quattro posizioni montiamo le corde di violino vuol dire che aveva un range da 64 a 74 più o meno però ovviamente sia guardandole a vista sia con lo strumento il gage il misura corde se faccio vedere poterlo fare un'approssimativa selezione fatto sta che la misura come facciamo oggi 62 64 63 ce la scordiamo una cosa modernissima le corde venivano levigate a mano e venivano vendute al tempo in mazzetti da 32 tirate due tirate una tirata e una lunghezza adatta al violino le tirate taglia metà e due corde per violino andavano da due tirate che equivale a circa un metro e venti un metro e venti cinque sistema usata anche oggi fino a tre tirate un metro tante e quattro tirate due metri 40 avevano i telari e l'aggeggio per misurare le corde è questo qui prima c'era un sistema non si sa ma mersenne introduce un sistema adesso rispondo questo qui è il gage di erard la corda si mette all'interno e va dentro va dentro finché si ferma e q tu scegli la corda finché rispetto alle tacche che sono le lettere ma questo sistema il primo che ne parla e luis sport nel 1832 quello credo che sia del 1834 questo è prima come facevano boh non si sa bisogna andare a mersenne nel 1636 il quale dice riprendere sto per dire un pennarello un cilindro da un centimetro due tu prendi la corda sottile che hai ci fai dieci giri margaret di gabay e accosti le spile prendi quella misura la dividi per 10 quindi hai una misura molto interessante della corda altrimenti non c'è altro sistema a napoli attualmente non c'è nessuno chi fa corde in italia siamo sostanzialmente in due corda e professionisti un cordaio amatoriale è un rivenditore che sta a milano che si fa fa le corde e dopo le vende cordaio amatoriale sta a bologna poi abbiamo due cordai professionisti uno sta a sale e l'altro sta qui nel veneto a vicenza no a napoli una volta c'era la famiglia di russo originari di sale i quali nell'immediato dopoguerra sono andati o forse un po prima sono andati sono trasferiti ad acerva e nel dopoguerra vedete certe aziende cordai sono diventate enormi anche con cento dipendenti perché finita la guerra sia i tedeschi che gli alleati non si sono dimenticati di quella tecnologia e la johnson johnson adesso famosa per i vaccini immagino la brown tutti queste ditte che si occupavano di filo chirurgico da sutura e poi anche la babolat eccetera hanno cominciato a far lavorare queste persone a far filo da sutura chirurgico corde da tennis e pochissima musica il mio maestro arturo granata ha lavorato 28 anni alla sala rete babolo e faceva le corde da musica secondo quella tecnologia rigida per arpa babolo per salvare per sofa cober che è un direttore veniva da queste aziende anche la boss brand dell'origine viene sempre da queste aziende dove si sono staccati portando la tecnologia moderna di là il mio maestro mi ha insegnato a fare corde in questo modo e mi insegno anche a fare fili di chirurgia che oggigiorno si usano poco e soprattutto le corde vs babolat da tennis solo che non le faccio perché non mi piace il tennis e mi piace la musica va bene e quindi ho risposto attualmente a napoli non c'è nessuno la di russo poi ha chiuso e succede così anche a sale stessa sono le grandi produzioni di filo da sutura eccetera ma quando nel 2002 comparsa la mucca pazza la sono successi dei disastri so di aziende che hanno comprato incautamente enormi quantità di serosa di mucca bassissimo prezzo dell'irlanda in realtà questi stavano svendendo tutto come ha preso questa quantità sono arrivati e la guardia di finanza dentro ha detto voi non potete lavorare sto materiale dovete bruciarlo intanto avevi i debiti in banca quindi c'è stato un un tracollo pressoché assoluto in italia di questa tecnologia andiamo avanti parliamo un po adesso vedete sono ancora inchiorato sulle tipologie ricorda quindi abbiamo detto che le prime menzioni sono del tardo metà se tardo settecento e corde di napoli ma essenzialmente significa corde in alta torsione e voi direte ma si spezzavano come sempre le corde come sempre accade possono spezzarsi però guardate che questi strumenti non lavoravano impiccati così come spesso capita oggi perché sapevano progettare la lunghezza vibrante in base alla nota voluta e al corista di riferimento da tutto ben proporzionato dopo vediamo se riesco a spiegarlo e le corde basse delle corde basse del cinquecento del seicento via di quella descrizione a corte italiana non abbiamo niente però io mi sono fatto un'idea queste arpe prima dell'avvento delle corde rivestite la prima menzione le corde rivestite del 1664 john playford descrive delle corde adatte alle viola e gli uti costituite da un'anima di budello e filo d'argento si le wires a volto sopra o di setta però ad onor del vero cita le corde di setta ma devo dire che non funzionano come bassi strumenti adatto tu fai una corda di setta come questa che ho fatto non funziona sotto l'arco non lavora bisogna fare qualcos'altro e infatti le corde filate con anima di setta non sono mai menzionate poi nei secoli nei decenni successivi come corde sempre l'anima di budello nonostante playford abbia parlato delle corde con anima di seta e le prime menzioni sull'uso di strumenti a pizzico di corde di seta la finissime del 1762 all'opera di guerrero in un metodo per chitarra cinque ordini o chitarra barocca dice non in spagna non utilizziamo un'anima di budello ma utilizziamo un fiocco di seta perché sono molto meglio corrette a corrette quello che ha descritto la montatura dell'arpa violino eccetera eccetera corrette dopo un anno dice la stessa cosa i bassi della chitarra è un anima di budello rivestita potete usare della seta cinese poi da quel momento in poi sempre un fronte da quindi da circa la metà del settecento la corda col fiocco di seta prende piede dappertutto sia sull'arpa sia negli strumenti a pizzico che fosse la chitarra che fosse il mandorino a sei ordini a quattro ordini c'è consegnatamente quello napoletano e dappertutto la corda di seta è quella che permette l'accesso alla sesta corda grave nella chitarra senza il basso di seta non seta non parti non parti da nessuna parte allora ma ci si può domandare e prima prima i primi passi che facevano rivestiti io ho un'iconografia del 1760 65 usavano una corda di tipo di misile che una firma francese la corda di misile è questa faccio vedere i reperti stadivariani eccola qua questa qui la vedete questa è una corda normale con l'argento accostato e questa qui è spaziato e stadivari siamo intorno a 1725 30 scrive e la corda che mostra che di budello va filata a vita alba tradotto significa la corda che mostra attraverso le spire che c'è che c'è budello va affilato a imitazione della pianta della vita alba che è una specie di liana che spira realizza intorno al tronco dell'albero noi possiamo vedere queste corde dove per esempio qui come violino terza eccola lì infatti borsard borsard dunque siamo nel 1700 1000 scusate 1708 più o meno e la borde 1783 parlano anche la terza di una era demi e pittore l'ha fatta vedere poi giambati sforcherè il famoso retratto qui si vede le corde a demi la quinta e la quarta queste no il pittore ha voluto far vedere questo ma dell'arpa abbiamo questo siamo prima dell'avvento ufficiale delle corde rivestite su anima di seta e abbiamo questo personaggio adesso dario immagino che tu abbia vedere qualcosa su l'arpa eccetera questo sistema io non me ne intendo con char tutta questa cosa mi ha detto sul sistema di le rette non è il mio mestiere ma qui c'è la data 1765 e guardate adesso l'ingrandimento il grande metto è grandioso se guardate bene io ci ho fatto una sorta di coppia però vedete che ho usato intenzionalmente un filo di rame rosso per far vedere questa è una corda demi file se uno guarda bene l'attento osservatore dietro vede una cordiera di violino si vede appena appena e si vede la quarta d'argento gli altri di budello giallo ecco però abbiamo pochissime altre evidenze di montature ademi o solamente un altro quadro del mille eccolo qua guardate ma è un quadro per modo di dire perché non sia un ciondolo ma qua si vedono chiaramente le corde ademi la cosa interessante che partiamo col budello a certo punto si interfacciano le corde ademi per poi diventare le ultime due o tre qui non si capisce bene accostamento corde di questo tipo a non sono una via di mezzo fa il budello e il resto però volevo trattare velocemente l'argomento corde dei bassi e dopo quindi faccio un saltino avanti a dopo il 1760 e in tutto con questa tematica per coloro che sono appassionati dell'arpa dopo il 1770 momento molto negli argomenti di gli uteri altre cose perché per me è un pantano e io devo stare nel mio campo così detta stile impero allora i bassi con la seta sono stati usati fino alla fine dell'ottocento poi si è passati crede primi anni del novecento a un'anima di acciaio rivestito che quello vediamo nell'arpa pedale e anche in queste celti che ci si accorge che non sono che sembra dang dang la pendola di meri pompis molto metallico sdang sdang ma i bassi con la seta sono particolarmente interessanti perché tutti i bassi che vediamo adesso per questo tipo di arte hanno un fiocco di nylon e il filo di rame argentato la domanda è il tipo di sonorità è uguale o simile a quelli di seta la risposta è per nulla simili se noi facciamo l'esperimento sulla chitarra e montiamo dei bassi in seta sentiamo un suono corposo rotondo chiuso che si smorza subito poi quando tiriamo su la meccanica va su subito molto velocemente e solo è piuttosto percussivo e di breve durata qua lo stesso perché purtroppo la seta è più debole di un fiocco di nylon adesso vi faccio vedere quindi bisogna mettere molta seta e meno metallo abbiamo dei dati costruttivi sì abbiamo un lascito un brevetto del 1797 in un certo board rilassata l'academia delle essenze di di parigi dove ha lasciato un cascino so come si dica di corde originali ancora la ve le faccio vedere eccolo qua è un ricercatore un musicologo bettannico ci ha preso le misure ce li ha fornite ci dà il diametro del filo di rame argentato falsa argento il diametro esterno per cui è facile fare una replica poi cos'è che abbiamo abbiamo un'indagine tutta da fare questa un'indagine che non è mai stata fatta quella di a catalogare queste corde analizzarle vedere dove stavano montate misurare lunghezza vivante e raccogliere una catena enorme di dati per dare un'identità a queste corde ma perché ci vuole dicevo spero che siate vivi ancora abbiamo un'opera mi sa che dovevano farne due qua perché mi sto rendendo conto guardate ecco qua guardate questo un fiocco di seta o meglio multifilamento attaccaticcio ovviamente della miglior qualità quella sete questo è un multifilamento di nylon guardate il nylon vedete come sa lunga ma faccio fatica a romperlo ecco ci sono riuscito guardate la sete invece se io la tiro non sa lunga per niente guardate capite questa la seta no uno si aspetta chissà cosa in più assorbe 30 per cento di umidità il nylon il 2 3 per cento quindi le cosiddetti i cosiddetti bassi di multifilamento di nylon di vestito vengono oggi costruiti con molto metallo poca bava proprio perché la barra è talmente robusta sapò s'abbonda col metallo mentre anticamente prevaleva l'anima e il metallo era ridotto al minimo il tipo di sonorità era completamente differente un basso di seta rivestita non sono tondo corposo ed era un po la continuazione di quelli di budello senza perdere quota a livello acustico queste qua si vede chiaramente come arrivi all'ultimo budello senti sdegge c'è un salto questo fenomeno è maledettamente evidente sulle arpe a pedale moderne arriva l'ultima di budello il la grave chiami due e mezzo due tre di budello fatto anche così rigido che fa pof e dopo è la prima rivestita che non solo c'è uno scompenso di tensione che se la premi tu fai così col budello e l'altra non ce la fai e questo non va bene nella diciamo nell'economia del bilanciamento la montatura è scritto dappertutto nel passato ma soprattutto la prima rivestita con il suo altissimo rendimento acustico che si interfaccia con l'ultima di budello questa fa pof e quella fa sdeg stesso fenomeno l'abbiamo con la chitarra classica fa la terza corda sol che ancora di nino e la prima rivestita che diventa una super corda che fa sdeg questo è il problema principale abbiamo una domanda sui bassi ecco ecco è vero questo le corde era di introdurci questa cosa ma non si sono mai trovati bassi antichi con anima in metallo ecco è vero questo le corde era di introdurci questa cosa da poi introdurci molti cambiamenti sull'altra ma questo è un argomento in cui io non mi avventura perché non sono un tutologo ma io guardo quello che si trova in commercio cioè la statistica è dato è data da quello che effettivamente viene venduto e fa la massa no su quello che di quello che viene usato in tutte le arte che ho visto nei musei tutte più o meno distrutte negli scantinati anche a roma per esempio è che una gran fortuna che siano distrutte nel senso che i frammenti di corde sono ancora lì perché quando restavano sta roba prima cosa che fanno è buttare via le corde il motore mi buttano via il motore non mi permettono di riempire il puzzle e fare tutto un sistema di punti che tu metti lentamente avviene l'effetto dinosauro quando scavi e tori un osso avete mai visto che dopo li collegano col filo di ferro uno dietro lato per cercare di capire com'era questo benedetto scheletro qui uguale tuttavia un osso solo che adesso da un dente ti fanno intero dinosauro io adesso non è che possa da baud quella la corda e faccio tutto l'ottocento però tornando all'argomento la maggior parte delle volte che ho visto corde basse ha trovato questa seta generalmente invecchiata per cui diventa giallo carico oppure addirittura rossastra perché anche le tingevano e bassi filati con anni in metallo sì li ho visti ma non erano preponderanti il problema difficile qui è la datazione anche di questi bassi di seta come possiamo datarli è un problema quindi possiamo solo dire che sono genericamente vecchie ma non attribuire un'epoca a meno che non si faccia l'analisi con questo nuovo metodo messo a punto tre anni fa da di giapponesi dove riescono adattarti il periodo fino a 500 anni ma questo è un'altra cosa no abbiamo un altro intervento se si è di dare punti già che quindi ci sta guardando ciao davio dice io ho ora davanti a me una nader man intero forchette con bassi sete anima metallo troppi chili a parotta è sì questo è l'argomento che dopo introduco dopo ma dopo vediamo l'orario perché mi sa che qua bisogna spezzarla perché l'argomento arte vedete io sto facendo tutto un'introduzione un discorso che non è stato fatto prima presumono essi per forza il problema di una di farsi da sé una montatura è che vai a caricarci decine e decine di chili ovviamente dopo darò gli opportuni warning e perché qualcuno magari si porta dietro delle esperienze ad esempio provenendo dalla papelare o arte moderne dove la cosiddetta filtrati le tue in mente quello lì e lo riporti a una aspetta che un vecchietto del tempo quei legni deboli magari con la quale eccetera poi bisogna considerare anche altre questioni effettivamente il rischio è la rottura e l'esplosione delle arpe ma di io suggerirò un sistema mettendo bene in chiaro fin dove ci si può avventurare perché non vorrei l'effetto dell'apprendista stregone il quale andando via il maestro allarga la stanza e se non torna indietro quello qui l'allargamento della stanza equivale un'esplosione però se fate in un certo modo diciamo soprattutto per quelli più esperti che hanno un attimo di sensibilità e noi alle prime armi è possibile comunque arrivare non tanto a fare una montatura nuova ma capire primo se l'arpa che hai preso o intendi prendere sta nelle giuste proporzioni non ti si saltano tutte le corde perché le volte capita per le note che vuoi montarla e per il picci che vuoi montarla con vista standard secondo se hai un'arpa già montata come possa questa questa qui dietro come fare con metodo semplice deve essere ben bilanciata perché con una un'artista un mese fa gli ho fatto fare un test a distanza dove alla fine si lamentava che nei bassi doveva molto vicino alla tavola gli ho fatto fare un test molto semplice che vi spiegherò e ha scoperto che i bassi erano molto molli viceversa i cantini erano tesissimi per cui non riusciva entra dentro a cavar suono il bilanciato tutto il problema si è automaticamente risolto delle corde di budello di quello che avevano all'epoca e del tipo di bassi vi ho detto tutto ma sul tipo di bassi essenzialmente per uno specialista come me non specializza specializzato in corde di metallo con animi metallo personata parrocchia diciamo io mi fermerei qui ma guardate che il problema serio è che queste arpe impero eccetera ricostruzioni originali restaurate bla 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 non entro nel merito con le corde con fiocco di naino quel suono che sentiamo non esistete mai nel passato questo fiocco di seta queste corde producono una sonorità diversa che secondo me varrebbe la pena di esplorare perché anche qui come nel campo degli strumenti ad arco eccetera ci saranno quelli che dicono va bene non mi interessa mi interessa suonare dammi le corde sintetiche bassi sintetici oppure dammi le corde di budello e dammi quei bassi di che voglio sentire cosa mi raccontano voglio sentire una sonorità tipica di quell'epoca oggi si può fare in una certa maniera si avvierà una ricerca abbastanza sistematica sulle arpe mezze distrutte che ci sono di catalogazione come feci in sei musei con le corde rivestite per strumenti ad arco o centinaia e centinaia i frammenti ricorda il museo di roma ci sono stato una settimana io ho preso le misure e frammenti di 120 chitarre dal tardo 700 fino al 1920 e 30 della collezione del famoso tenore eccetera che sono ancora chiuse la maggior parte nei magazzini e di circa 90 mandolini tutte spezzone che soli in attesa che faccia i calcoli lo stesso fatto a bus è lo stesso fatto a eis book dove ci sono molti contrabbassi insomma questo lavoro va fatto penso di introdurre un attimo l'argomento delle corde sintetiche perché chi ci sta seguendo non è solamente amante della musica antica ci sono immagino anche amato che cosa baccarara vicentina vuoi sapere come con lui lui ne approfitta perché sa che sono in diretta e devo essere più impegno dopo sono al pubblico ludibrio questi è importante questo è la domanda qual è se non sono mai esistite quelle col fiocco di seta qual è quindi la cosa di basti che si può montare oggi con lo scopo di avvicinarsi il più possibile oggi nessuna tutte le corde che ho visto anche di nove di concorrenza non mi piace di colleghi abbiamo sempre una prevalenza del metallo sopra l'anima tranne una produzione britannica dove con sorpresa ho visto che tengono fermo il metallo e cambiano l'anima e mi sono detto ma che criterio è effettivamente ho visto in taloni reperti dove si tende a tenere fermo il metallo e aumentare l'anima però comunque sia si parla di anima di nailo il quale caratteristiche acustiche modo dell'elasticità tutte queste cose completamente differenti diciamo che un fiocco di nailo produce un suono più metallico più aperto ed è un problema che si un aspetto diciamo non un problema che si avverte molto bene sulla chitarra classica ma parliamo dei materiali moderni anche quelli adatti a fare queste cose materiali come questi smassi seta al bassi seta ok ok adesso vi ho messo lì gli ho buttatori il futuro e vi dico cosa abbiamo e dove sta andando la ricerca quindi parliamo adesso di materiali moderni perché una parte di chi fa musica antica utilizza corde sintetiche no chi è una buona parte di chi invece arte moderna eccetera utilizza appunto corde sintetiche soprattutto lì e qualcuno invece ancora il budello la perale ma anche altri no parliamo delle corde diciamo normali quindi noi bassi che materiale abbiamo a disposizione il primo materiale a disposizione sono le corde di nailo lo conosciamo tutti il nailo è stato scoperto per caso nel 1938 dalla dupont e dal dottor rollers del carattense e poi l'hanno utilizzato in quantità industriale facendo uno stabilimento enorme fuori new york perché si arriva una seta artificiale per di paracadute degli alleati perché i giapponesi avevano invaso la cina l'area di nanchino hanno bloccato le esportazioni di seta e la seta usata per fare i paracadute paracadute è una delle armi a una delle cose strategiche sapete come eccetera no ma finita la finalmente la guerra questo materiale è cominciato a essere stato utilizzato sulla chitarra iude e poi il fiocco la bava oltre che per le calze da donna non so piantato la seta e quindi la tradizione della seta è finita in tutto nord italia e anche per l'arpa e abbiamo diciamo un aspetto interessante che posso posso far niente il filo da pesca essenzialmente il nailo non è il nailo sono una famiglia da poliamidi che si ramificano in diverse tipologie c'è un gergo chimico che non sto a introdurre troppo complicato ma vengono calizzati per un numero o due numeri poliamide 12 6 6 6 o perlo e avanti così 6 12 eccetera non tutti i naili sono adatti a suonare per esempio il filo da pesca che un alio estremamente robusto non va bene per la musica perché assorbe molta umidità e diventa sordo non si può utilizzare non sono molto chiuso e questa la poliamide 6 o 6 6 ma subito dopo nel dopoguerra hanno scoperto un nailo che si chiama il tynex che è un brand name della dupont il quale un assorbimento d'acqua bassissimo perché serviva per le sete o le artificiali dei top brush per gli spazzolini adenti che se mettevi in aria filo a pesca a bagnare con l'acqua diventavano non hai capito dovrebbe venire rigido questo nailo ha funzionato molto bene anche per le prime corde per le corde della chitarra classica e questo fino a circa 1990 che non sono apparsi alti nailo e questi tondini ha cominciato a prendere il posto delle corde di budello da cui tecnologia sera rare fatta nel frattempo nel secondo dopoguerra no rimasti pochissimi cordai il nailo è quello che vediamo che vediamo tutt'oggi del materiale più diffuso e che vantaggi a dei vantaggi e degli svantaggi lo svantaggio principale che non avrà mai sono del budello per il budello suona bene per due motivi il primo perché un peso specifico più alto del nailo il peso specifico nel nailo musicale 1,04 il budello 1,03 cosa vuol dire vuol dire che all'aumentare del peso specifico il diametro s'assottiglia e sono più aperto poi c'è un altro vantaggio che il budello che mette il nailo un tondino fuso lì in anno alla torsione nel quale a seconda di come le fai gli da l'elasticità il nailo no infatti la corda di nailo se non è tesa bene quando la suonante fatto un po l'effetto della corda d'acciaio perché non è elastica e quindi quando date l'impulso quella oscillazione non potendo allungarsi sale di frequenza ed è molto sgradevole questa cosa qua è una delle cose più brutte del nailo poi il suono è molto più rotondo del budello ma altro non si aveva successivamente negli anni 1985 90 la savare si introduce le alliance per la chitarra che è un filo da pesca giapponese messa appunto per la pesca per altre tecnologie che ha una caratteristica anzi ne ha due tre un bassissimo assorbimento d'acqua poi un altissima resistenza alla trazione e soprattutto a un peso specifico molto alto 1,78 oggi si usa il nickname carbon che deriva da flow carbon cioè flow carbonio ma il nome è giusto che noi chimici lo chiamiamo e pvdf poli vinil di lei fluoro c'è il fluoro nella molecola a me piace niente sto materiale abbiamo provato a lavorarlo e ci siamo ridotti che un impianto si è distrutto sviluppa acido fluori di questo è un materiale molto costoso però da quegli anni lì certi tipi di arpe con sono molto metallici bilanti immagino le celtiche qualcosa che imita il metallo questo materiale ha preso piede ed esiste tuttora per cui dal solo nailo dal solo budello si è passato il nailo e poi il flow carbonio questo fine stop i bassi multifilamento fatto così oppure anima di metallo col filo sopra che sono quei bassi che li vedete nell'arpa pedale che si riconoscono perché non li puoi girare sono durissimi hanno questo uno stang e per farli lavorare bene deve avere tensioni altissime perché si comportano un po come un jet militare che ha le ali corte dove sta gara solamente si va velocissimo se no precipita le corde di metallo come quelli per la chitarra acustica eccetera lavorano bene solo se sono molto tese perché come allenti la tensione essendo molto rigide non lavorano bene e questo è il motivo per cui in un'arpa pedale di queste ditte come questa nostra piemontese eccetera l'ultimo basso arriva quasi a 60 kg per andare a circa 38 40 kg con la prima filata che si trova subito dopo il budello capite quindi questo è fondamentale per farle suonare la ricerca però è andata avanti è vero che c'è detto chi si loda si sboda ma è la verità non posso dire che non è vero c'è chi sono io per dire che non è vero che così allora perché la ricerca è andata avanti qua in italia perché una vita del nord italia che sta a vicenza mentre ora così è dotata di impianti di estrusione e il titolare è un perito chimico gli piace sperimentare poi ha fatto una ricerca bestiale nel mondo delle cose insomma se l'interne un po e ha cominciato a sperimentare materiali innovativi dieci anni fa avendo l'estrusione si è messi in testa un'idea in testa un'idea fuori di testa di provare tutte le plastiche ma inventate con la determinazione di vedere quelle che suonano da quelle che non suonano non solo dopo aver messo trovato quelle che suonano da quelle che non sono anche interferire nella materia plastica aggiungendo cariche minerali con lo scopo preciso di modificare il peso specifico ed entrare nella terza dimensione quella introdotta nel 1664 modificando la densità mediate il filo metallico intorno al buddello e per fare long e long history short qualcosa già ne fanno la lunga storia più corta i materiali che sono stati introdotti diciamo intorno al 2010 sono questo brand name si ligato naigate che un poliestere che ha delle caratteristiche interessanti perché il peso specifico uguale a quello del buddello quindi il suono più o meno va in quella direzione comunque lontano da quella dei nylon e da quella del flow carbonio poi cosa troviamo un bassissimo assorbimento di umidità lo 0 1 per cento conto se ricordo bene il 10 per cento del tynex che già indicato per fare la musica è sostanzialmente queste corde sono fatte da un solo produttore questo qui del nord italia e ha cominciato a prendere piene in certe arte soprattutto come surrogato delle corde di buddello per coloro che sono amanti della musica antica che cosiddette storiche poi da bianco che era bianco bottiglia del latte questo produttore ha pensato di metterci un po di colore dentro imitare un po il buddello ecco le cose sono andate così e dici si è fermati da due anni abbiamo invece un'autentica rivoluzione un amico chimico un giorno mi porta un sacchetto del granulo di un pellette di un materiale che bio plastica a devo finire il discorso tutte quelle plastiche che vi dicevo che volevo testare alla fine guardate non è erano 700 ma non è che che si è preso 700 plastiche per essere sono già guardando la scheda tecnica si può fare una selezione che è andata oltre il 94 95 per cento perché guardi il modulo elastico la densità sorbimento d'acqua eccetera già dici questo non suonerà mai c'è riusciva a sentire che tipo di suono mi dava il materiale solo guardando la scheda ed è così poi altri materiali che stavano nel range giusto con questi parametri però non erano estrudibili in forma di filo magari andavano bene a farlo stampaggio come l'abs queste cose qua magari andavano bene a fare una bottiglia adesso naturalmente non una bottiglia ok quella la in fondo che la latta lì ma non si potrebbero fare in forma di filo quindi quelli che sono rimasti sono rimasti 3 4 famiglie le otte state tutte poi questo amico chimico mi presenta questa bio plastica e ho cominciato a mettere il naso sulle bio plastiche e questa bio plastica che deriva dalla canna da zucchero l'ho chiamata sugar nickname molto veloce e ho visto che era perfettamente miscibile con il nare gate fino a fare dei blend delle delle leghe molto interessanti e ha delle caratteristiche sonore incredibili incredibili non so se si può fare un esempio questo ovviamente è un'arpetta così no poi sempre quella versione caricata ecco diciamo che da una nostra parte è entrato anche in commercio questa cosa che nel nostro caso diciamo nella stradita una certa sigla sh ma la collaborazione con una grossa azienda piemontese sapete che o quegli altri americani porta una collaborazione queste sono sotto un brand bio carbon interessante della bio plastica contemporaneamente è stato messo a punto anche in un tipo di nylon utile per le arpe a pedale l'ottava zero quella più alta che attualmente utilizza un nylon derivato dal petrolio appunto il tanex questo bionailo e deriva invece dal mais insomma a farla breve abbiamo tutta una serie di plastiche innovative che possano essere colorate come si vuole e anche caricabili con polvere di rame fino a realizzare un sogno che fino all'altro giorno era un sogno per aria l'eliminazione delle corde rivestite per la prima volta del 1664 sull'alba adesso ci sono delle alternative e ci stiamo lavorando e avete sentito questi prototipi i quali a non sono molto energico non ruotano su se stesse e questo è un campo diciamo dove la ricerca sta andando avanti parliamo dei bassi velocemente i bassi questi di questo tipo li avete visti non sono un commercio sono esperimenti parliamo dei bassi di questo tipo la domanda giusta è mimmo che bassi abbiamo disponibili oggi di tre tipi abbiamo li vedete su queste altre certi contondino di nino ricoperto di nylon questo funziona abbastanza bene lo vediamo in certe produzioni americane o sudamericane o anche medio orientali di arte è un difetto che quando torno la deviazione la spira si allarga e il tondino e le spire possono muoversi e comunque la corda ruota su se stesso però è comunque una situazione accettabile poi abbiamo le corde con anima di metallo rivestite sono quelle tipiche dell'arpa pedali e di certe propedeutiche verso la pedale eccetera e che hanno quel suono che già conoscete tensioni molto forti dove lì si può discutere fino a dopodomani ho delle idee mie ma non l'affronto qua troppo complesso e poi abbiamo quelle col fiocco di nylon e a volte così che però sono di sonorità molto diversa da quella che fu delle corde che furono per lo chiamiamo lo stile impero insomma 1770 da quel che ho visto io si arriva a fine dell'ottocento con l'uso di sti bassi di seta anche oltre che però esiste una possibilità moderna il rayon nella chitarra classica noi realizziamo il realizzato delle corde con anima di seta e metallo che vanno a una copia esatta di quelle che usavano prima del 1950 che hanno delle caratteristiche e la seta però è materiale naturale per cui possono essere disomogenee in genere dopo un po saltano perché la stando attrazione si sdrena si snerva insomma bene ho trovato un polimero che chiamo con il nickname rayon nome usato per una fibra che mitava la seta e che limita perfettamente la seta è una cosa incredibile imita imita la seta senza i problemi della seta e meristitrice a quel sono lì e mi stavo pensando mi stavo pensando si vede che sono stanco stavo pensando se non fosse il momento di fare una versione con il rayon delle corde di seta realizzante secondo le proporzioni anima metallo che andasse in quel range guardate metto le mani davanti perché la verità in tasca non ce l'ha nessuno cioè io non potrò mai dire che poiché vede una pecora nera quindi tutto il greggio è nero no è una rondine non fa primavera però se comincia avere parecchie rondini forse posso dire che non siamo neanche in inverno in autunno no ok e che andiamo nella direzione giusta per cui più o meno le proporzioni fra anima di seta e metallo quelle le conosciamo diciamo stiamo nell'intorno di quello che certamente a sinistra oltre non è certamente oltre a destra non è ma dentro lì diciamo siamo nella gamma dei gialli non possiamo dire è esattamente sto giallo ma arancione non è e blu non è ecco stavo pensando se non fosse il caso di cominciare a fare una messa a punto di queste cose avviare una sperimentazione vedere e chi le suona queste altre cosa ne pensa di questa cosa qua è sempre possibile poi fare una costruzione esatta dei frammenti di corde che abbiamo come questo che una ricostruzione esatta di dati di bode di una delle corde e vedere che cosa ci dice la sua sonorità sulle corde io penso da aver detto tutto sì mi sa che dobbiamo spezzare in due perché non ce la facciamo sì infatti mi risulta anche quello dopo queste sono anche messa a punto questo cosiddetto suga poi una lega come detto prima lo suga puro una cosa pensate che lo suga puro e brillante come un pezzo di vetro e misure scientifiche fatte in laboratorio da parte di un mio amico che fisica acustica insegna anche l'università è rilevato un sustain del 24 per cento maggiore in più del floro carbonio è una potenza in watt in joule energia acustica più 18 per cento quindi una cosa incredibile è un assorbimento d'umidità dello 0 1 per cento quindi c'è una estrema stabilità ma concludiamo guardate mi sono reso conto che non si può fare nient'altro che fermarsi un attimo introducendo il pole e la questione della legge delle corde e introduco un problema lì mi sospendo sul più bello come fanno nei film che ne stavo guardando uno ho visto dieci puntate dopo arrivato il comune questo viene ferito da un colpo il pistolo ha detto il bancone si è fermato il film adesso è un anno che non si sa come va a finire e qui adesso vi lascio nella stessa situazione allora la legge delle corde la legge delle corde è una cosa che utilizziamo noi calcolatore di diametri cioè nel cordai che gli utai vero dario e anche voi musicisti che mette in relazione tra di loro quel che è stato messo in chiave da vincenzo galilei poi il meglio da mersenne tutti gli altri fate si chiama la legge di mersenne thiel e poi anche le leggi di occhi che un signore che vissuto intorno a newton quell'epoca lì allora mette in relazione il peso specifico del materiale con la lunghezza vibrante la tensione della corda il suo diametro e la frequenza questa legge la conoscono tutti e qualcuno potrebbe dire beh se io devo farmi fare la montatura delle corde grazie a questa legge tu mi calcolerai il diametro ma come faccio a sapere io quanti cucchiaini di zucchero tu vuoi nel tuo cappuccino cioè la tensione vedete c'è un parametro che non è matematica non è possibile mettere in formula il gusto la sensazione tattile di tensione è perfettamente analoga alla questione dei cucchiaini di zucchero allora io posso decidere perché va bene a me che tu bevrai un cappuccino con quattro cucchiaini di zucchero dopodiché ti incavoli mi tiene in testa la tazzina mi dice io ne volevo uno solo e che ha già fatico e potremmi cadermelo prima è quello ti dice ma tu sei esperto cordaio sei famoso in tutto il mondo non sai calcolare una montatura no bello non posso farlo proprio perché sono famoso mi sono accorto che non si può e allora come si fa in più a complicare la cosa c'è questa bella cosa dell'arpa guardate non solo a un sacco di corde ma vi faccio due esempi opposti e poi ci fermiamo il collo adesso sta immagine piccolina guardate questa parte superiore ed inclinazione della cassa ok adesso guardate quest'altro quest'altra forma questa qui dell'inclinazione della cassa adesso andiamo a a finire a guardare questa con la nostra amara guardate anche questo guardate come scappa via in su dove ci sono sti lunghi bassi e non è finita guardiamo allora quest'altra arpa le stesse come completamente diversa guardate come quasi verticale sta cosa è invece qui è più contenuta allora cosa sto introducendo qua che già è difficile decidere quanti cucchiaini di zucchero messe sul cappuccino di un violinista che a quattro corde la cui lunghezza elegante vibrante quella già è molto più difficile fa lo stesso lavoro quando ti trovi un arcileotto dove magari ai bassi disposti in diverse lunghezze vibrante o queste chitarre con più bassi già difficile immaginatevi un'arpa dove io non so qual è il valore di filtrati le di tensione adatto all'esperienza di quel musicista e soprattutto al tipo di strumento che non andiamo a danneggiare tutto e e poi considerando la parte superiore che si chiama collo modiglione l'ho mai capito e anche l'inclinazione della cassa diventa un lavoro impossibile se non avendo già l'arpa qua oppure se il costruttore che parti facendo dei calcoli sulla sua arpa e quindi c'è la chart con tutti i diametri eccetera e se non si ha questa situazione siamo nei guai e a meno che dalla prossima puntata ciao le domande fatele pure che poi non rispondiamo è come si fa si fa fine ho lasciato sul più bello adesso aspetto un anno e vi do la risposta e più avanti fate le vostre domande e tenete conto comunque che io seguo le corde non sono un asperto ditaio che ho limiti precisi e che questo è un argomento molto difficile ciao